Ho sentito diverse persone che si sono scandalizzate, tra virgolette, perché Bob Dylan è indeciso se andare o no a ritirare il suo premio Nobel. Secondo queste persone Bob Dylan mancherebbe di rispetto a... ebbene io non so se lui ci andrà o no, in ogni caso se ci andasse non volendoci andare mancherebbe di sicuro di rispetto a se stesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.